...grammi dai nostri corrispondenti di tutto il mondo. Caracas. Nixon, vicepresidente Stati Uniti, ha colto Caracas dimostrazioni ostili. Dimostrazioni dimostrano che è difficile dimostrarsi amici, paesi così turbolente e alternative politiche. Stop. Vaticano. Celebrata annuale festa Corpo Guardie Svizzere. Reclute esercito stato più piccolo mondo ma più grande spiritualmente, giurata fedeltà sommo pontefice in successiva cerimonia ambientata a magnifico cortile per vedere. Stop. Castellammare di Stabia. Impostata in cantiere Castellammare, Chiglia, nuovo incrociatore Caio Duilio. Presente ministro industria gava et autorità politiche et militari. Nuova este terza Duilio impostata stesso cantiere. 86 anni fa prima, 46 seconda, terza Duilio oggi. Stop. Milano. In casa Mondadori festeggiati quattro importanti letterati. Gianna Manzini, Aldo Palazzeschi, Dino Buzzati, Marino Moretti. Meritate feste a tuomini penna italiani che nonostante incalzare fumetto resistono su sguarnita trincea letteratura. Fulgido esempio, disinteresse et buona fede. Stop. Bruxelles. Inaugurato in Expo, esposizione internazionale Bruxelles, padiglione italiano. Era tempo. Se aspettavamo altro po', all'Expo, noi italiani non trovavamo neanche un can. Stop. Inaugurato in Expo. Inaugurato in Expo. Inaugurato in Expo. Inaugurato in Expo. Grazie a tutti.